Poco più di dieci mesi sono passati dal ritrovamento del cadavere di Alessandro Neri. Il 29enne rispoltore è scomparso lo scorso 5 marzo e rinvenuto nei pressi di Fosso Valle Lunga, a poca distanza dal cimitero di San Silvestro. Tre giorni dopo, una vera e propria esecuzione, commentarono i carabinieri. Due colpi di pistola, uno al toraccio e un altro, quello mortale alla testa, entrambi sparati a distanza ravvicinata. Un episodio che sconvolse l'intera comunità pescarese, che ebbe anche una vasta eco a livello nazionale. Alessandro del Tonerino era molto conosciuto, figlio di una giata famiglia italo-venezuelana. La madre, Laura Lamaletto, si era occupata fino a qualche tempo prima di una nota azienda vitivinicola del Chietino. Il padre, Paolo Neri, titolare di un laboratorio orafo in Toscana. Tanti gli amici di Alessandro, molti di quali abituali frequentatori della Curva Nord, e furono loro, subito dopo la scomparsa, ad avviare le ricerche coordinate dalla stessa madre Laura, che aveva stabilito proprio in casa il quartier generale. E' proprio dal cancello del villino a Villa Raspa di Ispoltore, un cartello affisso subito dopo il ritrovamento del cadavere. Ale non c'è più. Ad uccidere il 29enne, dunque due colpi di pistola calibro 7,65. Ancora da chiarire se l'omicidio sia avvenuto sul posto o se il cadavere è stato trasportato lì. La sua 500 rossa è stata trovata in un parcheggio nei pressi di Piazza Salotto, ai piedi di una palazzina all'interno della quale c'è un appartamento di proprietà della famiglia Lamaletto. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona si vede passare la 500 rossa, ma non si riesce ad individuare chi è la guida. Anche le successive analisi dei RIS a bordo della vettura non hanno dato esiti significativi. Pochi elementi dunque a disposizione dei carabinieri che indagano a 360 gradi, anche in ambito familiare dopo i dissidi tra Laura, il padre e i suoi fratelli. Una certa attenzione viene riservata anche alla vita passata dallo zio, coinvolto in particolari vicende giudiziarie in Venezuela. Tuttavia sono piste che pian piano perdono peso, lasciando lo spazio e una verità che al contrario emerge con forza, dopo che le indagini passano nelle mani del reparto investigativo guidato dal maggiore Massimiliano Di Pietro, lo stesso che indagò sull'omicidio di Jennifer Sterlechini. Alessandro Neri, dopo l'uscita dalla gestione dell'azienda Vitivinicola, aveva avviato una serie di attività private legate alla compravendita di beni su internet e l'acquisto anche di auto dalle aste giudiziarie. Ed è proprio da quel tipo di attività che l'indagine, coordinata dal PM Valentina D'Agostino, sembra aver dato i riscontri più interessanti, tanto ad arrivare all'operazione di questa mattina con i sei arresti legati a una complessa attività di estorsione, non solo. La sensazione è che gli inquirenti stiano stringendo il laccio all'interno di un particolare ambito dove si è piena contezza di ciò che è accaduto ad Alessandro e magari anche a chi ha premuto quella sera di dieci mesi fa il grilletto.